Qual è il profilo dell'aspirante studente del liceo scientifico Torelli di Fano? È quello di una studentessa o di uno studente fortemente motivati per uno studio sicuramente teorico, ma non disgiunto anche da attività pratiche di tipo laboratoriali. Uno studio di discipline assolutamente eterogenee tra di loro, discipline che andranno affrontate in modo assiduo, costante. Si tratta di un alunno certamente fortemente dotato di una forte curiosità e di una propensione verso la conoscenza. Cosa significa frequentare un liceo scientifico? Significa affrontare un percorso non professionalizzante. Non si esce da un liceo scientifico con un titolo di studio che ci metterà direttamente nel mondo del lavoro, ma si sarà naturalmente proiettati verso il mondo dell'università. si tratterà di acquisire quelle competenze, quelle abilità, quelle conoscenze necessarie, non ultimo quello spirito critico che saranno proprio utili ad affrontare il percorso di studi superiore, successivo, appunto quello dell'università, ma soprattutto ad affrontare la realtà complessa che viviamo quotidianamente. Istituzionalmente la proposta del liceo scientifico, nel suo quadro normativo, si suddivide in due macroambiti che sono quelli del corso ordinario e delle scienze applicate. La sostanziale differenza tra i due corsi è data da questi elementi. Il primo, più tradizionale forse, fornisce come dire un quadro di materie, di discipline estremamente ampio, eterogeneo, a 360 gradi, discipline che spaziano dall'ambito più prettamente scientifico alle materie umanistiche, compreso lo studio della lingua e della letteratura latine. Il corso di scienze applicate è invece un corso più dichiaratamente impostato verso lo studio delle scienze, dell'informatica. E dunque, ecco, c'è un'accentuazione della proposta delle materie scientifiche e in particolare della disciplina di informatica. Al di là di questo, la proposta del liceo scientifico Torelli prevede poi una serie di possibili potenziamenti che vanno dal corso Cambridge al potenziamento di fisica, al bilinguismo, al potenziamento di inglese, alla cosiddetta curvatura ambientale. Qual è il profilo in uscita dello studente del liceo scientifico Torelli? È quello di un studente capace di affrontare qualunque passo successivo nel mondo dell'università. I nostri dati ci fanno capire come le scelte prevalenti, una volta diplomatici, i nostri allunni, si rivolgano verso le facoltà di carattere più prettamente scientifico, quali le varie ingegnerie, medicina e tutte le altre facoltà che appartengono in qualche modo a questo ambito. Svariate sono comunque anche le iscrizioni verso le facoltà di carattere giuridico economico e perché no anche quelle appartenenti all'ambito umanistico letterario. Questo perché il percorso di studi del liceo scientifico predispone l'alunno ad una eterogeneità culturale, alla visione di una cultura integrata, non settaria e non separata. Interessanti sono per noi particolarmente fonte di orgoglio, sono i risultati di eduscopio della Fondazione Agnelli che ha rilevato anche in questi ultimi anni come il successo negli esami universitari dei nostri alunni ci ponga, anzi li ponga, insomma ai primi posti nella provincia di Pesaro Urbino.